Dica, è il numero unico di emergenza. Che è successo? Via c***o. A Francavilla, signora. Francavilla? Che civico, signora. Sì, signora, che numero civico, numero civico. È stata una chiamata di soccorso proveniente da un utente di Francavilla al mare giunta alla centrale unica di risposta, la CUR, alle 10.23 di oggi a dare via all'entrata in servizio del numero unico europeo per l'emergenza 112. A partire da questa mattina, tutte le chiamate ai numeri di emergenza effettuate dai distretti telefonici con prefisso 085, 0871, 0872 e 0873 dell'Abruzzo saranno indirizzate sulla CUR il cui operatore, identificato il chiamante e localizzata la sua esatta posizione, dopo aver individuato la natura dell'intervento da effettuare, girerà la richiesta di soccorso alla centrale di secondo livello, che provvederà all'invio dei soccorsi. A partire dal prossimo 26 marzo, poi, stessa cosa avverrà anche per i restanti distretti telefonici. In questo modo si completerà l'entrata in esercizio del servizio NUE-112. A renderlo noto è il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Abruzzo, Mauro Casenghini, che in poco meno di un anno, insieme con i suoi più stretti collaboratori, ha messo in piedi un sistema complesso di risorse umane e tecnologiche che rappresenterà una piccola rivoluzione nel campo delle emergenze e del soccorso sanitario. Sì, sul distretto di Pescara e i tre distretti della provincia di Chieti. Alle 10.23 è arrivata la prima chiamata, quindi diciamo che stiamo progressivamente partendo, operatore per operatore e centrale di secondo livello per centrale di secondo livello. 30 gli operatori che si alterneranno alle postazioni telefoniche della centrale, suddivisi in tre turni quotidiani e coordinati da 10 responsabili di turno che assicurano una copertura per tutto l'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7. Il servizio NUE è collocato in un'area individuata all'interno degli uffici dell'Aquila dell'Agenzia regionale di protezione civile.